Ciao a tutti, come conquistare gli altri e farsi gli amici? Prima di affrontare il tema però iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Termasco e iscriviti al mio nuovissimo canale del cui trovi il link sottostante sulla crescita personale. E ti ricordo l'appuntamento per il mio primo seminario online martedì 31 marzo dalle 20.30 alle 23 per partecipare devi abbonarti al canale Felicità Benessere nella sezione abbonamenti. E su questo canale Massimo Termasco ne esistono tre livelli di abbonamento per intraprendere un percorso di crescita. Questi tre livelli di abbonamento sono il base, il top e il master consulting che provvede anche una consulenza telefonica. Allora, veniamo un attimino al tema. Veniamo un attimino al tema e il tema qual è? Il tema è quello che richiama un attimino un vecchio libro di Dale Carnegie che è come trattare gli altri e farsi gli amici. Come conquistare, come trattare gli altri e come farsi gli amici è veramente importante. Questo libro, diciamo così, che è un libro datato, diciamo, che credo che sia stato prodotto, diciamo, negli anni 60, all'inizio, la prima edizione fondamentalmente, poi ne hanno fatto tantissime edizioni, però dava alcune indicazioni interessanti, alcune indicazioni particolari, valide ancora ad oggi, ovviamente io l'ho integrata con altre modalità molto più moderne, però è sempre interessante tutto questo. Quindi come conquistare gli altri? Allora, per conquistare gli altri è importante quello che la PNL chiama rapport, creare un rapporto empatico positivo con la persona, questo è fondamentale, se non crei un rapporto, un rapporto empatico positivo, hai poche possibilità di ottenere, di raggiungere dei risultati, di raggiungere degli obiettivi. Primo punto è quindi creare un rapporto. Il rapporto, cioè l'empatia, come si crea? Beh, intanto facendo aprire gli altri, cioè essendo dei buoni ascoltatori e sapendo fare delle domande, si crea un rapporto anche, diciamo, un rapporto empatico positivo, si crea anche con, diciamo, con la vita, diciamo, emotiva della persona. Questa è un'altra cosa molto importante, creare un rapporto empatico positivo con la vita emotiva della persona. Quindi ascoltare gli altri, essere buoni ascoltatori è fondamentale. Non cercare di, diciamo, gratificare, nel senso di farli sentire importanti. Tutte le persone hanno bisogno di accrescere un po' il loro ego, per cui è importante, nell'accrescimento del loro ego, farli appunto, farli sentire che sono importanti, farli sentire che hanno valore. Questo è fondamentale. Molto importante utilizzare il linguaggio del corpo, utilizzare un linguaggio del corpo appropriato, cioè un linguaggio del corpo aperto, e attraverso la gestualità fare mirroring su questa persona, cioè cercare del rispecchiamento. Il rispecchiamento, il mirroring, è importante perché crea una sorta di identificazione inconscia, cioè l'altra persona inconsciamente si sente simile a noi, e noi possiamo dire di tutto, dire di no a tutti, meno che a noi stessi fondamentalmente. Questo è molto importante. Altra cosa, se abbiamo torto, non alimentare la polemica, molto meglio dichiarare spassionatamente, guarda, ho sbagliato qua per questo e questo è quell'altro motivo. Non c'è nessun problema, se gestisci le cose in questo modo non c'è veramente nessun problema. Mettere il torto è fondamentale. Creare un campo positivo, quindi usare i truismi. Usare i truismi cosa vuol dire? Cioè fare delle affermazioni a cui la persona inizia a dire di sì. Cioè oggi è una bella giornata, c'è il sole, c'è il sole. Sì, è vero. Fare tante affermazioni a cui la persona dice sì. Quindi diviene naturale, poi spontaneo, dire sì a te. Dirti sì anche magari in alcune circostanze in cui avrebbe detto no. Questo è un'altra cosa molto interessante. Quindi questo è un altro punto molto importante. Utilizzare anche il condizionamento operante di Bandura. Il condizionamento operante di Bandura è un'altra parte importantissima, se vogliamo. Che cos'è il condizionamento operante? Il condizionamento operante è, diciamo, diciamo, gratificare qualora la persona, gratificare qualora la persona esprima, qualora la persona esprima delle cose, faccia delle cose che a noi vanno bene. Allora rinforzare. E invece non dare indifferenza, diciamo, quando la persona fa delle cose che a noi non vanno tanto bene, fondamentalmente. Il condizionamento operante serve molto a creare anche un rapport qua, un rapport anche profondo. Poi un'altra cosa che bisogna imparare a fare, mostrare rispetto per gli altri e per le loro opinioni. tenere presente che le opinioni diverse, ma questo è veramente importante, le opinioni diverse sono un accrescimento per tutti poi di fondo. se una persona commette degli errori, meglio farlo capire indirettamente, piuttosto che dirgli hai sbagliato qua, hai fatto male. Cercare indirettamente di arrivare a fargli pervenire il messaggio, senza però, diciamo, stare a tartassare, perché quello innesca subito meccanismi di difesa. E poi ottenere dei risultati lanciando delle sfide. Se tu lanci una sfida, le persone sono motivate, e quindi ottieni dei risultati a fare le cose. Se gli lanci una sfida, secondo me è difficile riuscire a fare questo, è molto difficile, non so se ci riusciremo. e motivi molto le persone, perché le sfide, gli uomini, le donne in generale, sono attratti dalle sfide. Ecco, utilizzando questi sistemi, riuscirai a conquistare gli altri e a farti gli amici. Per questo video è tutto, ti ricordo di iscriverti al canale, seguirmi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco, iscriverti al mio nuovissimo canale di crescita personale, di cui ti posto il link sotto, nell'info box, e ti ricordo che per partecipare al mio primo seminario online, che sarà martedì 31 marzo, dalle ore 20.30 fino alle 23, devi abbonarti al canale Felicità Benessere nella sezione Seminari Online. E su questo canale Massimo Terramasco tu puoi trovare tre livelli di abbonamento di cui ti ho parlato prima, per cui puoi abbonarti tranquillamente. Bene, per questo video è tutto, ti do appuntamento al prossimo, ciao!